Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Questo pomeriggio alle 17.30 presso la sala Gino Aurisano del Museo dei Misteri in via Trento a Campobasso, questa è proprio la locandina, sarà presentato il nuovo calendario dei misteri per il 2013, un appuntamento annuale che non va perso perché l'Associazione dei Misteri in sostanza, Misteri e Tradizioni, vuole continuare questa tradizione del calendario e quindi ho un'opportunità anche per visitare questo splendido museo che è proprio a Campobasso in via Trento, l'appuntamento come dicevamo è per le ore 17.30 oggi pomeriggio. Parliamo di calcio, di Lega Pro, si gioca la quattordicesima d'andata, vediamo le partite inserite nel girone B. Aversa, Ponte d'Era, Chieti, Borgo, Abugiano, Fondi, Foligno, Gavorrano, L'Aquila, Martina Arzanese, Melfi, Aprilia, Poggi, Bonzi, Salernitana, Teramo, Campobasso, Vigor, Lamezia, Interreggio. Trasferta a Teramo per il Campobasso, ufficializzato il nuovo Under Petrassi che è stato ingaggiato ieri pomeriggio, Mister Bullo potrebbe anche schierarlo dal primo minuto. Bullo cerca punti vitali a Teramo, Cappellacci dal canto suo, vuole una vittoria per sanare del tutto una frattura che era in essere con la società teramana fino a qualche settimana fa. A Teramo dovrebbe essere tutto a posto, d'altronde la società abruzzese deve molto a Cappellacci che ha riportato i bianco-rossi in seconda divisione dopo il fallimento del Real Teramo datato 2008. Teramo-Campobasso si gioca nel nuovo impianto di contrada Piano Daccio, l'anomalia di tale stadio è la mancanza di una denominazione ufficiale a quattro anni dall'apertura. Proprio ieri il Campobasso ha raggiunto l'accordo con il difensore centrale classe 86 Marco Petrassi, ex Padova, Lamezia e Gela che già domani pomeriggio potrà essere impiegato. L'intesa esistente con il franco-algerino Samir Lakeeb deve essere solo ratificata. Assodato che servono tre Under in campo, Bullo deve impostare la formazione intorno a queste tre presenze. I ragazzi in età di Lega verranno distribuiti tra difese e centrocampo e dovrebbero essere Esposito, Pascucci e Colantoni. Allora ipotizziamo il Campobasso antiteramo partendo da Iuliano Traipali. La difesa è il reparto più martoriato dalle squalifiche. Senza Minadeo e Boi fermi per un turno sarà la volta del neo arrivato Petrassi e Marino al centro della difesa. Pascucci a sinistra e Candrina a destra. Il messicano ragiona su un centrocampo a quattro e magari anche la possibile rinuncia di un attaccante vista l'indisponibilità di Conate per infortunio. Nel 4-4-1-1 Bullo potrebbe dare spazio a Colantoni a destra. Rice è dall'occo al centro Esposito, decentrato sulla parte sinistra del campo. Leggermente più avanzato di vicino nelle vesti di trequartista. Per l'attacco si profila un ballottaggio tra Morante e Bussi. Tra i due dovrebbe essere preferito proprio quest'ultimo, visto il discreto momento di forma. Testimoniato dalla prestazione con gol contro il Foligno. Per Morante invece sarebbe la prima volta in panchina. Occhio alle squalifiche noiose ma soprattutto inutili. Appello da girare ai diffidati di giornata. Marino e Bussi in un momento delicato come questo servono davvero tutti. Che il Teramo sia squadra da sparti acqua tra alta e bassa classifica lo dicono i numeri. 18 punti ripartiti presso a poco alla stessa maniera tra partite interne ed esterne. 10 in Abruzzo e il resto fuori casa. Non si consideri dunque l'avversario di turno una squadra trascendentale. Lo stesso Interreggio facendo una gara accorta è andato a strappare l'intera posta in palio in Abruzzo. Lo scorso 28 ottobre è stata quella una delle due sconfitte a domicilio del Teramo. L'altra è avvenuta per mano del Pontederre alla settima giornata. Ad arbitrare Teramo Campobasso è stato designato il signor Pagliardini della sezione di Arezzo. Per quel che riguarda le formazioni giovanili rosso-blu in campo, mentre vi stiamo parlando, la squadra Beretti che al Campo Agli sta ospitando Lascoli. Per quel che riguarda gli allievi, domani sempre al Campo Agli alle 11.30 ospiteranno il Benevento, mentre i giovanissimi andranno a giocare sempre domani mattina a Benevento per il torneo di categoria. Calcio di Serie D, 14esima d'andata. Vediamo le partite. Nel Girone F, Amiternina, Celano, Astrea, Olimpia, Agnonese, Isernia, Civitanovese, Re Canatese, Termoli, Renato Curi, Maceratese, San Cesario, Iesina, San Niccolò, Ancona, San Benedettese, Città di Marino, Pesaro, Fidene. Trasferta per il Termoli, la squadra di Giacomarro, domani sarà ospite della Re Canatese. Dopo il successo nel derby contro l'Isernia per tre reti a zero, il Termoli continua la sua corsa alla conquista della vetta, che è sempre più vicina. A dividere i giallorossi dalla capolista San Cesario, infatti, ci sono solo due punti che sarà possibile colmare già a partire da domani in casa della Re Canatese. I marchigiani sono terzultimi con all'attivo una sola vittoria. Squadra quindi è alla portata dei ragazzi di mister Giacomarro, che ormai è possibile definire come una macchina macina punti, grazie alla coppia d'attacco Bartolini-Miani, sempre pronti a metterla nel sacco, grazie al reparto difensivo ben collaudato, alla cerniera di centrocampo e soprattutto al mister e al duro lavoro fatto settimana dopo settimana. La società poi ha sempre riposto fiducia nella squadra, anche nei momenti difficili di inizio campionato, quando i risultati tardavano ad arrivare e da non sottovalutare anche l'aiuto dei sostenitori dal cuore giallorosso sempre al seguito. Insomma, un collage che ha sempre permesso la neopromossa Termoli di competere con le prime e le più accreditate per la vittoria del campionato, senza esclusioni di colpi. Ritornando all'incontro di domani, in quel di Re Canati tutti a disposizione per mister Giacomarro, che seguendo il detto squadra che vince e non si cambia, dovrebbe riproporre il 4-4-2 di partenza che ha vinto il derby. E quindi Patania tra i pali, solita difesa a quattro con Maglione e Giuliano i centrali, mentre sulle fasce Viteritti e Panarello. A centrocampo laterali D'Angelo e Felici, al centro Cianni e Caravaglio. Il duo d'attacco composto invece dagli inossidabili Bartolini e Miani, a dirigere il Re Canatese Termoli, il signor Ivan Robilotta di Sala Consilina. Domani all'Ancellotta arriva la Civitanovese, gara delicata per l'Isernia di Mister Farina. Si torna a giocare all'Ancellotta di Isernia per la 14esima giornata di campionato di Serie D Gionef. L'Isernia affronterà, dopo due sconfitte consecutive, la Civitanovese, con tante ombre sul futuro. I marchigiani che arrivano in Molise con quattro punti in meno, ma con il morale opposto, visto il ritorno al successo di domenica scorsa per 1-0 contro Amiternina, ma ancora a caccia di un successo esterno, visto che, oltre ad un pareggio, la squadra marchigiana ha perso nelle altre quattro gare esterne, statistiche che fa ben sperare gli uomini di Mister Farina. Dal canto suo l'Isernia arriva alla difficile gara con il morale un po' basso, dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata nel derby del Cannarsa contro il Termoli, che oltre alle critiche hanno riportato squalifiche che fanno nella formazione che Mister Francesco Farina dovrà schierare in campo domani. Infatti, mancheranno due pedine importanti come Galuppi e Ruggeri, uno per somma di ammunizioni, l'altro per l'espulsione per doppia ammunizione, oltre a Fucci, che invece per il rosso diretto preso dovrà scontare ben due giornate di squalifica. Oltre a questo si aggiungono le dichiarazioni che arrivano dalla società, che, vissi i problemi finanziari, ha già fatto sapere che dopo la partita contro la Civitanovese, con la riapertura del mercato, la squadra bianco-celeste attuerà dettagli alla rosa. Ma non si tratta di una smobilitazione, ma solo di un rinnovamento. Luca Galuppi, il centrocampista che a causa della squalifica non potrà essere schierato domani, è già partito per intraprendere una nuova avventura in Australia. E quindi le scelte del tecnico campano sono abbastanza obbligate con il modulo, il 4-3-1-2, che non cambia, ma cambieranno gli interpreti. Infatti ci sarà D'Arienzo tra i pali, Varchetta e Fusaro i centrali di difesa con Lunardo e Ricci sulle fasce. Cambiano gli interpreti da centrocampo che saranno Barbella, De Gian Battista e Nicolai, solito ballottaggio per il ruolo di trequartista tra Vinci Guerra e Palumbo, con il primo che dovrebbe essere favorito, e coppia d'attacco formata da Artiaco e Panico. A arbitrare l'incontro del Civitelle domani alle ore 14.30 ci sarà il signor Daniele Paterna di Teramo, coadiuvato dal signor Giorgio Basso e dalla signora Carmen Piccolo. Ricordiamo anche che Riserni, ancora in corsa per la Coppa Italia, è stata accoppiata per i quarti di finale contro l'Arezzo, con gare il 12 dicembre, ore 14.30 in Toscana. Due trasferte consecutive per l'Olimpia Agnonese si inizia domani in casa dell'Astrea. Quattordicesima gara per la Serie D, l'Olimpia Agnonese domani se la vedrà con l'Astrea, con pagine che ospiterà i Granata in vista della prima fredda domenica di dicembre. Di certo non saranno le rigide temperature previste per domani, a fermare i ragazzi di Mister Urbano, sempre più decisi a tornare a casa con il bottino pieno. Alle porte di Roma l'Olimpia Agnonese sarà al completo, tutta a disposizione del Mister, compresi Leonetti e Di Lollo, quest'ultimo si è rimesso dopo lo stop di domenica scorsa a Pesaro caso a problema al ginocchio. Diamo quindi una probabile formazione Granata tra i palli Leonardo in difesa centrali, Scampamorto e Litterio, con Pifano a destra e Pellegrino a sinistra. I centrocampisti potrebbero essere Di Lollo, Partipilo e Ricamato, mentre Sivilla e Leonetti faranno lo supporto in attacco a Cheità. La classifica sembra essere un po' meno brillante per i Granata, che dal terzo posto raggiunto in precedenza scendono ora al settimo con 21 punti. Gli stessi degli avversari di domani della strea. Sfida dunque tra pari, perlomeno stando alla carta, di certo sarà una trasferta molto importante per il Granata, a caccia di punti salvezza, così come fondamentale sarà la prossima gara, sempre fuori casa, contro la Iesina, che ha il fiato sul collo della compagine molisana con un solo punto di differenza in classifica. Due squadre in ottima forma, quelle della strea e della Iesina, che senz'altro daranno del filo da torcere ai ragazzi alto molisani, che non vincono da ben quattro giornate. Ciò ci stupisce, viste e considerate le buone prestazioni in campo dei Granata, per questo bisogna tornare al successo, come dichiarato anche dal direttore generale Franco Marco Vecchio. Quella di domani, dopo aver buttato un occhio sul programma delle gare previste per le molisane, sarà senza ombra di dubbio la più interessante da Vincente, dato che l'Iserni e il Termoli se la vedranno con compagini più abbordabili, perlomeno stando ai numeri. Ma il calcio, così come la vita, ci insegna che mai dire mai, non possiamo permetterci il lusso di dare qualcosa per scontato, quindi via i giochi. Per sapere cosa accadrà, dobbiamo semplicemente aspettare il fisco di inizio di domani ad astrea del signor Leonard Liguori di Bergamo. Palla a volo femminile di serie B2, questo pomeriggio la palestra di Villa dei Capo ospiterà a partire dalle 18 la nuova pallavolo Campo Basso ed il Napoli, trasferta per l'Europea 92 che in concomitanza scenderà sul campo del Lavello in provincia di Potenza. Calcio a 5 di serie B alle 15, quindi fra pochissimo alla palestra Sturzo, è previsto il match 5 Campo Basso con Versano, la capolista Esernia invece sarà ospite del Monte di Procida. Basket in divisione nazionale C, trasferta a Benevento per il Venafro, in C regionale la gara più attesa è il derby del Pala Unimol tra NBC e Termoli. Domenica assolutamente interessante per le squadre molisane della Palla Spicchi. Si parte con la divisione nazionale C che vede protagonista il Venafro, il cui campionato sino a questo momento è stato sicuramente altalenante. I ragazzi di Mascio, dopo aver perso in casa e di un solo punto contro l'Airola, tentano l'impresa sul campo del Benevento che veleggia nelle zone altissime della graduatoria. I Venafrani sanno benissimo che non sarà facile spugnare il parquet della prima della classe, che sino a questo momento ha capitalizzato ben 12 punti in classifica. In un campionato molto equilibrato come quello di quest'anno, comunque le sorprese sono sempre di trol'angolo e per questo il team molisano potrà tentare il colpaccio. Occorrerà una grande difesa ed un'attenzione fuori dalla norma per portare a casa un successo che sarebbe di vitale importanza per tutto l'ambiente. Scendendo di categoria, le molisane hanno tutte delle partite molto impegnative. Si parte con Ripa Limosani che ospita tra le mugre amiche il fortissimo Campli. Il pronostico è dalla parte degli abruzzesi che possono vantare esperienza e profondità nel roster, ma non si deve mai sottovalutare il complesso allenato da Fabio Lado Morsi che in casa si è sempre rivelato avversario ostico e difficilmente superabile per chiunque. Inoltre la componente pubblico potrebbe fare la sua parte, anche se ci sarà sicuramente la tifoseria abruzzese che dà sempre una costante nelle partite di Montori e compagni. Alle 18.15 invece Isernia avrà un compito assolutamente difficile e proibitivo sul campo del Pentateramo. I Teramani sono la classica squadra costruita per vincere, che ha tra le proprie fila elementi di categoria superiore, come il Capitano Lulli, una vita in Serie A con le maglie di Roma e della stessa Teramo, ma Giovanni Casasola. I Pentri, dall'altra parte, sono la classica mina vagante del girone. In grado di vincere contro chiunque, gli uomini di Cardinale sanno bene che possono mettere lo sgambetto ai favoriti del torneo. Facci, Cardinale Junior, Igban Ubo e Rodriguez sono giocatori importanti che possono dare fastidio a chiunque se prendono la giornata giusta. Il morale del resto è buono e una squadra libera da pensieri può creare problemi ad una formazione, invece, che deve vincere a tutti i costi. Chiude il quadro di giornata la sfida attesissima tra l'NBC Campobasso e il Termoli. Il derby è, come si sa, una partita che fuoriesce da qualsiasi pronostico. Le due formazioni sono tra le più forti del girone e lo spettacolo sarà sicuramente degno di tal nome. I locali, che sperano di vedere riempita anche questa volta la struttura del Palau Nimol, non potranno avere tra le proprie fila Pennacchio e Lago Nigro infortunati. E questa non è una bella notizia per Coach Sabatelli, che vede la sua panchina ridotta. In compenso dovrebbero riapparire tra i dieci l'esperto Filipponio e il Jolly Denunzio, utile in tutte le occasioni. Dall'altra parte, gli Adriatici possono contare su una tradizione positiva, visto che lo scorso anno espugnarono vazzieri al termine di una gara piena di emozioni. De Sanctis, Cheliauskas, Sciarrette e Bertinelli sono elementi di categoria superiore e farebbero la gioia di qualsiasi allenatore se messi in un contesto tecnico-tattico di primo ordine. Il termolito al resto lo è ed è per questo che la sfida con l'NBC assume i connotati di un vero e proprio antipasso di una serie play-off da Cardiopalmo. La speranza è che lo spettacolo sia in sintonia con le attese della vigilia e che ci sia un bagno di folla non indifferente che renda giustizia e merito a due squadre che meriterebbero per blasone e valore il salto di categorie. Il Centro Sportivo Educativo Nazionale in collaborazione con il Cusso Molise ha organizzato nei mesi di dicembre e gennaio corsi formativi a pagamento. I corsi formativi di primo livello sono aperti a tutti e sono validi per poter insegnare nella specialità in cui si è scelto di partecipare. Le lezioni si svolgeranno nel fine settimana è possibile iscriversi ai corsi di ginnastica e psicomotoria bodybuilding e fitness aerobiche step pilates gym preparatore atletico per sport da combattimento e preparatore atletico per sport di squadra. A proposito del Cusso abbiamo avvicinato il direttore generale Massimo Spina. Massimo Spina direttore generale del Cusso Molise basket in carrozzina è una delle tante attività che sta prendendo vita al Pala Unimol in particolar modo in quest'ultimo periodo. Abbiamo quest'anno deciso di aprire di più al pubblico all'utenza e dare a disposizione il palazzetto per tutte le attività insieme all'Università degli Studi e con il nuovo presidente Giovanna Viola che ha dato uno sprone a questa organizzazione. Diciamo che noi cerchiamo di fare il massimo infatti oltre queste attività ne avremo altre da adesso a dicembre. ci siamo aperti anche al pubblico nel senso che abbiamo a disposizione il palazzetto anche per le scuole perché ci sono delle esigenze per le scuole che sono molto forti non hanno palestre quindi la mattina abbiamo messo a disposizione delle scuole abbiamo cercato di coprire anche le carenze che purtroppo ci sono sulle strutture pubbliche per riparare ad esempio il palazzetto di Manzoni abbiamo cercato anche di dare una mano alla scuola di basket l'NBC che viene qui a giocare in casa. Inoltre abbiamo le nostre attività agonistiche che continuano a lavorare sono il volley femminile e il basket maschile inoltre chiaramente il palazzetto è attivo per tutte le altre attività che sono tante dalla palestra a tutte le attività per i settori giovani. Ecco va detto che comunque quando venite chiamati in causa oppure vi si chiede di ospitare una manifestazione organizzate sempre il tutto con la massima puntualità e la massima ospitalità questo non lo dico io ma lo ha detto poco fa la presidente Perrella lo hanno detto anche e coloro che sono venuti dunque questo è un plauso per voi. Io ti ringrazio e ringrazio coloro i quali ci fanno questi complimenti è chiaro che noi abbiamo un'organizzazione e mi onoro di dirigere questa organizzazione e ti posso garantire che i ragazzi danno il massimo in una manifestazione come questa chiaramente lavorano una decina di persone dietro le quinte non si vedono noi cerchiamo di fare il possibile per dare importanza alla manifestazione ma nello stesso tempo per cercare di dare il miglior servizio possibile oggi è una situazione particolare ci sono persone con disabilità quindi ci sono delle condizioni particolari uscite di emergenza diciamo che noi cerchiamo di stare attenti a questo facciamo il nostro dovere nient'altro cercando di mantenere sempre il palazzetto in maniera che chiunque lo possa utilizzare in maniera costante lo possa trovare sempre nelle stesse condizioni scacchi scacchi domani presso l'hotel San Giorgio a Campobasso si svolgerà un torneo di scacchi di beneficenza le gare inizieranno alle 15.30 si tratta di un torneo semilampo con 4-5 turni da 15 minuti ognuno torniamo al calcio campionato d'eccellenza tredicesima d'andata vediamo le partite in programma Sessano Venafro Boiano Turris Campobasso 19 Matesina Montenero Maronea Monti Dauni Gamba Tesa Rocca Ravindola Cerrese Sesto Campano Pozzilli Vasto Girardi Fornelli in campo all'antistadio Selva Piana Campobasso 1919 Matesina e a casa al nuovo Monte Rotaro Gioventù Monti Dauni Gamba Tesa domani al Colalillo big match tra Boiano e Turris il Boiano si presenta al big match di domani con la Turris con le rassicurazioni del presidente Giancola il numero uno Matesino ieri ha incontrato la squadra niente smantellamento la prossima settimana verrà stilato il nuovo organigramma societario tre nuovi imprenditori entreranno a far parte del sodalizio Matesino due boianesi ed uno di fuori regione aiuteranno Giancola a portare al termine la stagione e raggiungere il traguardo della promozione la squadra di Carosella quindi giunge ai 90 minuti di domani con maggiore serenità di fronte però una Turris a Guerrita che venderà cara la pelle la vice capolista Fornelli tempo permettendo sarà di scena a Vasto Girardi dove questa mattina è scesa anche una spolverata di neve già mercoledì 90 minuti previsti al di Tella validi per il recupero con il Venafro sono stati rinviati per la seconda volta consecutiva a causa maltempo il sesto campano invece dovrà ospitare il Pozzilli se i ragazzi di Mancini lottano per le prime posizioni gli ospiti devono ancora abbandonare la zona rossa Atletico Sessano Venafro una gara importante per entrambe le formazioni da un lato i locali che devono mantenersi fuori dai bassi fondi dall'altro il Venafro che deve tirarsi fuori dal baratro il Montenero dopo aver perso il recupero contro la gioventù da una domani ospiterà la Maronea la squadra di Montefalcone nel Zannio nelle ultime giornate è cresciuta e giungerà questa gara galvanizzata dalla prima vittoria conquistata nell'ultimo turno contro la Cerrese e proprio la Cerrese domani tenterà di togliere lo zero in classifica in casa del Roccaravindola uno scontro tra neopromosse tredicesima d'andata anche nel campionato di promozione ecco le partite Vairano rinascita a Bussese Casallericcia Campo di Pietra Cliternina Ripalimosani Toro Alife Vinchiaturo Biferno Rocca Vivara Montaquila Rocca Sicura Roseto Santiliana Castelmauro si stanno giocando già quattro partite esattamente Comprensorio Vairano rinascita a Bussese Toro Alife a Baranello in campo Vinchiaturo Biferno per finire all'Acqua Santiani di Trivento si sta giocando Rocca Vivara Montaquila e chiudiamo con le partite in programma nei campionati di prima e seconda categoria prima categoria Girone Aurora Pizzone Bagnolese Sanniti Rufre Cero Alvolturno San Pietro Avellana Mastrati Forulum Pesche Santa Capito Real Prata Coglia Alvolturno Sant'Angiolese Civitanova Valle Agricola Montenero Nel girone B della prima categoria Campopasso Calcio Torella Carpinone Kerkes Cerce Maggiore Cerce Maggiore Geosì Curboiano Oreatino Calcio Crebo Olympus Real Gildone Macchia Valfortore Sant'Angelo Liposano Casa Nuovo Monte Rotaro Spinete Fossaltese Volturino San Giuliano Del Zagno Nel girone C Petacciato Santo Stefano Acli Campobasso Colletorto Divinus San Giacomo Campomarino Frentania Endas Campobasso Real Termoli Molise Rotello Mafalda San Martino Sporting Club Termoli Torre Magliano Fiamma Larino Scendiamo nel torneo di seconda categoria Girone A Ciorlano Cep Domenico Desisto Scapoli Monte Roduni Conca Casale Pesco Penataro Longano Rionero Pagliarone Sangro Calcio Real Filignano Vandra Sestolese Riposa Il Macchia Girone B Casal Ciprano Rocca Mandolfi Colle Danchise Chiauci Castro Pignano San Pietro in Valle Gioventù Macchia Codenese Terventum Mirabello Real Sessano Murgansia Salcito Sant'Angelo Atletico Limosano Girone C Baranello Sporting Fortore Metal Zilembo Ielsi San Marco Lacatola Morgia Campolieto Pietramonte Corvino Celenzia Real Matrice Riccia Rizla Busso Monacilioni San Giovanni Ingaldo Castelnuovo Infine per la seconda categoria Girone D Castellino Quelli che Fiamma Campobasso Ururi Lupetti Guglionesi Isola Croata Morrone Ripa Bottoni Quartiere Nord Campobasso Munksufuni Rez Campobasso Portocannone San Felice Real San Martino Riposa Il Petrella Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport sulla nostra emittente domani alle ore 14.25 a tutto campo In diretta dagli studi di Campobasso dalla tribuna stampa dello stadio di Teramo Ancora dalla tribuna stampa dell'Ancellotta e del Collalillo di Boiano e dagli altri campi dove giocano le squadre molisane Domani pomeriggio alle 18 domenica sport fatti commenti interviste e immagini alla domenica sportiva Vi segnalo anche i nostri highlights i gol della domenica domani a partire dalle ore 22 Bene è tutto buon fine settimana